Musica Pro memoria a tutte le unità, si accettano donazioni e condoglianze per la famiglia del commissario lobby in sala riunioni, venite a forgere i vostri rispetti Musica Abbiamo dei diritti, e chi ve l'ha detto? Il vostro amico Ana Se volerà una città, la fece fa memoria Ah sì? Se gli piace tanto la pulizia può cominciare da te Buona questa 12 e 10 e 41 Mi piacera è deuda al... El! El! Allarme di priorità 1. Assunto il personale. Due undici mutili nell'area. Sei ventidue nell'edificio. Ripeto... Vai in un rifugio per senza tetto. Ma scherzi? È lì che ci rastrellano. Non capisci? Anarchia ha capito tutto. Ma tu... Tu non capisci, amico. Anarchia ha capito. Anarchia ha capito. Anarchia ha capito. Anarchia ha capito. Sì, sì. Non hai niente di meglio. E come faccio a farlo fuori se non so nemmeno chi è? Quello è un mistero, un enigma totale. Allarme di priorità 1. Attuto e personale. Due undici brutti nell'area. 6.22 nell'edificio. Ripeto, allarme di priorità 1. Intruso nell'edificio. Ripeto, allarme di priorità. È il peggior genere di criminale. Quello che crede che le sue azioni siano giustificate. Che agisce del tutto fuori dal sistema. Il sistema non funziona. Barbara, aspetta. Batman è nell'edificio. L'hanno visto mentre si dirigeva verso di voi. Preparate. Se usci la pistola... Ti tocca fare rapporto. Ragione di più per usare pugni. Per far rispettare la legge, devi minacciare l'uso della forza. Vado verso quel rumore! Non posso crederci! Cosa diavolo gli è successo? Dovremmo aspettare un po' per quella promozione. Ehi! Abbiamo un uomo a terra! State attenti! Vieni allo scoperto o sparo! Continuiamo a cercare. Ce l'ho! Da questa parte! Cortina fumogena! Guardatevi le spalle! Non fatevi mettere sotto da quel bastardo! Va bene, va bene. Ricevuto. Qualcuno sa dov'è? Andiamo i cani a cercare quella carogra. La cantiva notizia è che abbiamo perso il uomo. La buona è che ora non avrà una fetta della taglia. Non farmi spaventare! Dobbiamo sparpagliarci! Rilascia! Diavolo! Non fatevi lo più fare! Guarda che non sto ordinando nessun doppio privi. Unità di... Siete in ascolto, Diav! Unità di zona. Verificare due maschi sospetti per le strade di Little Tokyo. 1041 probabilmente... Nella tarda primavera del 1000 di più. State ben attenti! Sparpagliamoci e andiamo in perlustrazione. Tutto bene laggiù. Voglio aggiornamenti ogni 10 minuti. Ok. Possiamo farcela. Dico bene, ragazzi. Ne ho braccati di criminali tosti. Ma questo li batte tutti. Un paio di tiri ben piazzati e finisce tutto. Se ne andrai da qui, solo in un sacco mortuario. Spero proprio che mandi dei rinforzi. Non si ferma mai! Sparito! In processo di... Sparito! È così che si lavora in polizia! Finalmente la giustizia è servita, ragazzi. Ora, vediamo chi c'è sotto la... Batman è nell'edificio. L'hanno visto mentre si dirigeva verso di voi. Preparatevi! Tra la vigilia di Natale e la tempesta, i pazzoidi hanno le strade tutte per loro. Dannazione! Prendi un pagamento fuori busta e questi ti credono debitore... Non posso crederci! L'ha lasciato a tutti! Ci schiava... Ma chi l'ha testa? La doverta, quello morale! Vuole mandarci un segnale? Mandiamoglielo noi! Disperdetevi e sparate per uccidere! Così non fa bene! Non va per niente bene! Ehi, vieni fuori! Non si trattano così i poliziotti! Quanti feri dicono? Elimina poliziotti come se credesse davvero di farla franca! Non so bene cosa sia successo qui! Un uomo a terra è anche troppo! Ora trovatelo! E mandate tutto all'aria! Mi sono stati fuori! La nazione! Ti ha affubicato! Usa, Smogeni! Non perdetelo! Non sospetto! Per il ferido! Sopra, sopra, sopra! Il sospetto è scappato! Resta sulle sue tracce! Non farmi spaventare! Dobbiamo sfarbagliarci! Ehi, mi dispiace! Sopra, sopra! Sopra, sopra! Sopra, sopra! Sopra, sopra! Sopra, sopra! Fic broth influencers! Sopro, sopra! Sopra, sopra! Grazie a tutti. 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 Tutto il personale era tolto dai capi di partimento. Molti agenti risultano assenti dal servizio. Usano un protocollo di sicurezza che non conosco e le finestre sono in vetro rinforzato. Il disturbatore nel deposito delle prove può fare al caso mio. Chimico. Sei merda! Alfred, non riesco ad accedere al deposito delle prove. Mi serve una via alternativa. Il deposito delle prove, sir? Secondo queste planimetrie è ad accedere a cui può accedere a cui può accedere dall'infermeria. dovrebbe riuscire a entrare da lì. Dovrebbe riuscire a entrare da lì. L'ho aggiunto alla mappa. A tutto il personale, 622 è avvistato ai piani inferiori. Mandate subito la sorveglianza laggiù. Deve sembrare un incidente come se Gordon avesse perso il controllo. Serve una volta da manuale. Volete una rivolta? Liberatemi. Tre, una campione elettrice. All'attacco! Eccolo, arriva! Un'attenzione a volte fatto. Dove sono i portandoli swoists up?! Un'accentoascinante? Un'accentoascinante! Quelle hanno urbano le ascenze... Un'amplandamento più forte. Che diavolo ci faccia di quindi? Venuto a prenderci! Tu.. Dicono che hai una taglia enorme. Sei qui per costituire. Bene, ha raggiunto l'infermeria. Ora cerchi l'ingresso di un vecchio vano dell'ascensore. La porterà al deposito delle prove. Va bene. La porterà al deposito delle prove. La porterà al deposito delle prove. La porterà al deposito delle prove. La porterà al deposito delle prove.